ciao a tutti ragazzi su Aprile vostra Volpe e oggi siamo su una nuovissima serie su Minecraft 1.7.10 con 91 mod modata ovviamente da me poi più avanti vi farò un piccolo tutorial su come si modano i vari pacchetti Minecraft con un sito che ho trovato allora cominciamo intanto facciamo così se no ok perché è probabile che lo porterò anche in live comunque trovate tutto in descrizione la pagina ok ok abbiamo cominciato in un posto abbastanza schifoso ci prendiamo sta roba del kit del tracciamento ok tanto il telefono che mi sta squigliando però lo stesso allora le torce le voglio qua lasciamo qua il cibo mettiamo qua questo mettiamo qua e questo mettiamo qua ok facciamo subito una a fare qua ok c'è questa blog ok lasciamo andare avanti qua c'è tanta bella sabbietta questa roba che ci facciamo questo qua ok il filtro della ok vedremo ce lo prendiamo intanto la caccia e che però quanta roba c'è non so per cosa ci servirà però ci servirà sicuramente per qualcosa ok andiamo verso il là ok ok qua c'abbiamo già una piccola stagno c'è una piccola grotta ma non è vero come vedete abbiamo il tricapitator io sono qua siamo tre anni per disboscare un bosco c'è una piccola grotta ma non è vero ok 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 è quanto duro stagno grazie una mela ok dove sono le vacche di qua le mucchette dove sono mucca ma cavolo l'ho perso ma c'abbiamo anche gli albori bianchi prima di tutto ci facciamo prima di tutto ci facciamo un po' che è troppo blaca e non fa mai maglia ok buono che c'abbiamo qua che c'abbiamo qua che c'abbiamo qua quadri de stomp che possiamo farci con questa qua adesso è per solito ancora filo vasovestomp quadri de bloc adesso pure qualcosa di smelting si può fare ok ok sempre con i denti aulicraft che vedremo anche in questo modo ok voglio la mia dammela la tua carne grazie polla grazie anche tu anche tu ok dammela mi hai dato prendiamo le canne che non fa mai male se non si blocca ogni tanto sto cacchio allora aspetta un momento che vado a vedere le impostazioni guarda le 10 jack ok questa è la musica a posto qua mettiamo 50 e siamo a posto siamo su un'isola porca vacca là c'è anche i maialini ciao maialino ciao maialino tieni qua grazie che mi ha dato anche il becco mi ha dato allora che voglio fare questo qua mi fa la stichetti c'ho già lo fa così per eh ho fatto anche ok per una spada ci facciamo un'altra piccola semmai e ci facciamo anche una accetta ok aspetta leggiamo questo qua che almeno alleee feste estremate basta ok allora oh c'abbiamo anche l'albero della gomma allora 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 possiamo ordinare possiamo ordinare non possiamo ordinare ok ci ordiniamo un pochettino roba qua cosa facciamo uguale per essere una ragazza ah no passiamo gli albaletti vanno qua le torce sono là ok ok dovremmo essere da posto rompiamo questa qua entro questa notte dai su ecco ecco diciamo por mi dispiace ma devi star generation ecco ho un poca ferro qui ci serve il ferroccio ok abbiamo anche la moto delle api allora io voglio andare verso lì qua intanto non c'è più niente ok con la gestione della mappa ok andiamo a soia vado a vedere cosa c'è sarà anche questa mod sia avventura che roba le costruzioni vedremo insieme cosa fare questo è la copa roll della forestry buono ok questo è la del terma foundation ok ci vediamo quest'altra coppa roll ok cos'è quello è il gravel allora ci facciamo anche bastoncini e ci facciamo una palia intanto sta venendo la notte allora così cosa mi fa adesso mi farei un bel riparo forse c'è un villaggio forse c'è un villaggio che ti vedo io lì qua eccola 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 ecco la eccola ecco la eccola ci prendiamo il carbone per farci le belle torcine dopo qua in torino dovrebbe essere un villaggio o qualcosa di genere però ci prendiamo dopo andiamo prima a vedere se c'è un villaggio qua in queste che ho visto là sopra facciamo veloci veloci che così finiamo anche il primo si infatti c'è una specie di villaggio no c'è un villaggio buono ah un villaggio con gli arciari wow che figata però devo scendere qua come faccio avete una scensola e poi no pensavo che si ahia è morbido buongiorno posso sono desiderato si ragazzi ma andiamo andiamo wow che figata ok è un guardiano andiamo a vedere qua dentro se c'è un crash di ballo dei libri che li vedremo più avanti la prossima puntata ragazzi adesso andiamo a esplorare ancora nelle casuccele qua che c'è di bello che c'è di bello mi dispisa la testa la testa ok è un villaggio normale questo carrucciolo è abbastanza no vabbè ci intruffoliamo qua e anche questa pozza di andare via dalle scatole ok ci spiaccichiamo qua il nostro bellissimo allora ci facciamo ci facciamo il nostro bellissimo aglietto prima di tutto ci montiamo le torce andiamo a dormire vabbè ragazzi noi ci sentiamo al prossimo gameplay fatemi sapere se vi piace e ritorno in minecraft sul mio canale alla prossima ciao a tutti ragazzi